La parola è il nostro Sandro Rossi, benvenuto da noi stasera Ci farà divertire con la sua musica a tutti non solo, ok? Poi una gentile richiesta Un grosso applauso ancora a Sandro Rossi Buona serata e buon divertimento a tutti Oh grazie, come sono tutti ben trovati Vorremmo ringraziare la Nadia e tutto lo staff per averci invitato qua a questa famiglia locale Ciao Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.